Buon pomeriggio gentili telespettatori, benvenuti o bentornati a questa puntata del Te con Te, il programma di Radio Cusano TV Italia, dove raccontiamo le vostre storie, quelle di tutti i giorni, dove quindi i protagonisti siete voi. E se volete essere protagonista di una delle nostre prossime puntate, basta mandare un'email all'indirizzo teconte.tvcusano.com. Noi stiamo aspettando soltanto voi. Buon pomeriggio, mia carapina. Buon pomeriggio Aurora. Bene, iniziamo subito. No, iniziamo subito oggi perché prima di passare agli anniversari del giorno ci sono due anniversari importanti. Oggi è il compleanno della mia piccola nipotina Ginevra che compie tre anni e gli voglio mandare un bacio enorme. Auguri Ginevra. E poi è il compleanno anche della mia cococococococonduttrice. Auguri Pina. Grazie Aurora. Beh, l'hai proprio voluto dire in diretta nazionale. Sto iniziando a invecchiare anch'io. Non sembra. Gli anni passano. Bene. Non sembrerebbe, ma Pina c'ha 50 anni, eh. Bene, ma se volete vi svelerò i miei segreti. No, a parte gli scherzi, iniziamo subito con gli anniversari del giorno perché oggi, oltre ad essere anche il mio compleanno, nel 1264 a Kestel Dermont si riunisce per la prima volta il Parlamento irlandese. Nel 1767 il capitano inglese Samuel Wallis copre Tahiti, che è la più grande isola del gruppo delle isole del vento, famosa per le sue spiagge di sabbia scura. Nel 1815 ci fu la sconfitta di Napoleone Bonaparte nella battaglia di Waterloo che porta la sua abdicazione dal trono di Francia per la seconda volta. Nel 1858 Charles Darwin riceve da Alfred Wallace un documento che contiene conclusioni quasi identiche a quelle sue sull'evoluzione. Questo spingerà Darwin a pubblicare la sua teoria. Nel 1873 negli Stati Uniti la femminista Susan Anthony viene multata di 100 dollari per aver tentato di votare, benché donna, alle elezioni presidenziali statunitensi. Restiamo negli Stati Uniti perché nel 1923 la Cricker Cab mette in strada il primo taxi. E nel 1942 parliamo di musica, nasce Paul McCartney, il leggendario bassista dei Beatles. Oggi una data leggendaria, sei nata tu, è nato Paul McCartney. E nel 1983 per concludere Sally Ride diventa la prima donna americana ad andare nello spazio. Bene, adesso una volta che abbiamo concluso questa parte dedicata agli anniversari del giorno e agli auguri, che dice Aurora? Iniziamo subito con la nostra prima rubrica Ars Vivendi. È incentrata sull'arte di vivere, si concentra su tutti quei lavoratori che si occupano quotidianamente di vari tipi di lavori. Ma oggi parleremo di un lavoro molto particolare, parleremo dei fumetti, ma capiamolo meglio con questo servizio. L'emergenza Covid-19 ha messo a dura prova tutti i comparti economici e produttivi del Paese. Il settore che sembra più lontano dalle previsioni di una ripresa e ancora privo di politiche per la sua tutela e sviluppo è quello degli eventi, in particolare quello degli eventi dinamici, ovvero delle manifestazioni affollate, come i festival, che si alimentano proprio della specificità aggregativa degli assembramenti. Un grido di allarme arriva da un settore che teme di finire trascurato e poco valorizzato dagli strumenti messi in atti dal governo, il mondo del fumetto. Una filiera apparentemente invisibile, che tuttavia contribuisce allo sviluppo dei territori e continua a dare lustro all'Italia nel panorama delle industrie culturali e creative internazionali, così come fanno le industrie delle arti visive, quali cinema e teatro. Escluse dal Fondo Cultura, le manifestazioni del fumetto rischiano un tracollo che comporta perdite economiche, ma anche turistiche e culturali ingenti. Ecco perché i festival più importanti d'Italia richiedono misure urgenti, puntuali e dedicate e auspicano un dialogo con le istituzioni per affrontare l'impatto economico della pandemia nei diversi settori dell'economia e della cultura. L'appello è stato sottoscritto da 23 manifestazioni di respiro nazionale e internazionale, con un bagaglio storico importante, ben radicate nei propri territori, in dialogo con amministrazioni locali, nazionali ed europee, che ogni anno offrono una pluralità di eventi capaci di attirare un pubblico numeroso ed eterogeneo, che va a oltre il milione di presenze, con un indotto economico e una ricaduta sui territori intorno ai 300 milioni di euro. Per la prima volta in assoluto, i maggiori festival del fumetto italiani hanno fatto fronte comune e al grido di Festival del Fumetto Insieme per Guardare Avanti, hanno unito le loro forze, con l'obiettivo di far riconoscere il valore culturale dei fumetti e di tutto il mondo che vi gravita attorno. E passiamo subito a presentarvi il nostro primo ospite, lui è Alessio Avalone ed è proprio un fumettista. Buon pomeriggio Alessio, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Alessio, buon pomeriggio. Poi Pina offrirà a tutti, finiamo la registrazione e ci vediamo tutti al bar dell'università perché Pina offrirà un aperitivo a tutti i suoi fan. Però adesso passiamo a conoscere... Ma Aurora, tu avevi mai conosciuto un fumettista? No, io devo dire di no e devo dire anche che è un settore che mi affascina tantissimo, quello del fumetto. Non sono una fan, io ho letto Topolino e forse mi sono fermata lì a dire la verità. Però mi intriga molto il mondo. Alessio, raccontaci come nasce la tua passione che poi è diventato un lavoro a tutti gli effetti, no? Eh, ma nasce praticamente da sempre, da che io ho memoria, insomma. Io da bambino già disegnavo e non solo avevo una generica passione per il disegno. Diciamo che facevo delle letture di Topolino e di altri fumetti per lo più umoristici che mi hanno proprio portato a sviluppare questa capacità di raccontare qualche cosa combinando immagini e dialoghi. Quindi Alessio, dopo aver capito di voler fare il fumettista, come è stato il tuo percorso di formazione? Quindi come si diventa fumettisti? Eh, allora, è una domanda complicata perché non esiste un solo modo. Il fatto è che il nostro mercato è molto variegato e la possibilità di accesso al mercato varia a seconda del tipo di fumetto che tu vuoi arrivare a proporre, insomma. Perché un conto, ad esempio, è se io voglio diventare un autore unico che racconta un certo tipo di storie. Un conto è se io ho in mente di diventare un illustratore per l'infanzia, ad esempio. Quindi tu, nello specifico, come hai fatto? Che strada vuoi intraprendere anche tu? Quali sono le storie che racconti e che vuoi raccontare? Dunque, allora, io per adesso sono un disegnatore, nel senso che io lavoro per la Sergio Bonella Editore, che mi ha permesso di esordire, nonostante non avessi all'attivo ancora Albi. Avevo giusto una piccola pubblicazione di otto pagine, però ho trovato degli editor e un editore, insomma, una casitrice che ha voluto credere in me e spero, insomma, di essere stato all'altezza di quelle aspettative. Ma tu, Ussi, utilizzi dei programmi o fai tutto a mano libera? Allora, la mano libera c'è sempre. Partiamo da questo presupposto, perché ogni tanto c'è il fatto che, eh, adesso li fanno il computer, sarebbe troppo bello, perché ogni tanto sembra che facciamo i fumetti. C'è sempre una mano, una mente dietro al computer, poi, in ogni caso. Certo, certo, c'è proprio una... Ad esempio, io qui, non so se si riesce bene a inquadrare, questa è una tavoletta grafica, e attraverso questa, naturalmente, io disegno sempre manualmente, ma sempre con ausilio, appunto, di una penna. Quindi, diciamo che anche il fatto che io disegno con un computer non toglie manualità. Alla tua manualità, alla tua creatività, al tuo essere, a tutti gli effetti, un artista. Alessio, ma invece, per quanto riguarda i tuoi personaggi, come nascono? Qual è la genesi dei tuoi personaggi? E anche le ambientazioni, cioè, a chi ti ispiri per ambientare le tue storie? Poi, io ho sempre saputo, forse non so se sbaglio, che i personaggi di un fumettista sono, in un certo senso, il suo alter ego. È vero questa cosa? Ma, sai, ci sono... Allora, innanzitutto, forse è doveroso specificare che il lavoro che io faccio per la Sergio Bonella di Dore non è sui mie testi. Nel senso che noi, un po' come nel cinema, lavoriamo, ci arriva una sorta di copione in cui c'è la descrizione della scena con i dialoghi, con quello che si dicono i personaggi. Noi leggiamo questo copione e da qui partiamo a interpretare più o meno liberamente la sceneggiatura. Spesso, qualche volta decidiamo noi le inquadrature, qualche volta decidiamo noi il design dei personaggi. Altre volte c'è un lavoro più corale anche con altri disegnatori. È il caso di specificare che, ad esempio, nelle serie Bonelli non è raro che, anzi, è la normalità che ci sia uno o massimo due sceneggiatori e poi una dalla dozzina alla mezza dozzina di disegnatori. Quindi, diciamo che per come è strutturato il mercato d'edicola attuale, questo è il modo in cui si lavora. Invece, che cosa ne pensi, Alessio? Non so se ultimamente, però negli ultimi anni è tornato un po' alla ribalta il tema, comunque l'interesse per i fumetti. Forse anche per alcuni artisti che sono diventati più o meno celebri. Ma io vedo, soprattutto nei fumetti di oggi, un interesse, un impegno sociale e civile. Tu anche vai su questa linea o i tuoi fumetti sono più un momento, diciamo, di svago che un momento di denuncia? Allora, guarda, in realtà nel... Ti sto dando tutte le risposte molto sfumate, mi scuso di questo. Però in realtà è così, nel senso che la voce del fumetto non è unitaria. Ci sono dietro tanti autori e ognuno ha la sua sensibilità, ognuno ha il suo punto di vista sulle cose e sul mondo. L'ultimo fumetto che ho pubblicato da disegnatore si chiama Mr. No e affronta alcune tematiche molto attuali attraverso la metafora di quello che è successo negli anni 70. Quindi è un po' uno stile umoristico? No, Mr. No è uno stile assolutamente realistico perché è quello, diciamo, della casa editrice Bonelli. Però hai disegnato qualcosa di umoristico? Io sì, io in realtà parto come disegnatore umoristico. Io, a proposito proprio di impegno civile, ho cominciato pubblicando delle vignette su dei piccoli giornali che erano distribuiti gratuitamente, insomma, quindi si potevano permettere di prendere un ventenne a fare le vignette. Però diciamo che effettivamente per me politica e fumetti sono andati sempre molto di pari passo, nel senso che... Ecco, alcuni disegni umoristici, ce li vuoi raccontare? Sì, allora, alcuni di questi sono praticamente momenti quotidiani che vengono immortalati. Spesso non trovano neanche una pubblicazione. Quindi tu disegni anche per te, semplicemente, non soltanto in vista di essere pubblicato o sui social o sulla carta. È una cosa comune a tantissimi artisti e disegnatori, nel senso che ormai ognuno di noi ha dei lavori che trova e poi porta avanti dei progetti un po' più personali, perché abbiamo tutti una forma di pubblicazione immediata e veloce che è il web. Noi sul web possiamo far vedere, guardate, voi mi avete visto sulle pagine in questo modo, ma io so fare anche quest'altro. È un vantaggio che offre il tempo attuale. Alessio, ma vorrei farti una domanda. L'originale è di un disegno, ma è di proprietà di chi lo acquista? Bellissimo! È molto più grande di quello che poi effettivamente va sulle pagine, no? Sì, perché questa nello specifico è una doppia splash page. Significa che... Ecco, spiegaci, perché ci hai trovato due un po' ignoranti in tema. No, no, ma non c'è problema. Anzi, è bello fare divulgazione su questi aspetti più tecnici del nostro mestiere, per quanto poi il fumetto nasce e rimane uno strumento di comunicazione di massa. Doppia splash page significa che io apro il mio fumetto e la vignetta è grande quanto due pagine. Anzi, vi posso far vedere un esempio complicato. Ok, splash page si intende quindi doppia, una e l'altra anche. Questa è doppia splash page. Splash page perché va a figurare un tuffo che fa il lettore in una pagina ed è per quello che si chiama splash page. È un gergo che ci viene dagli americani e come tale ce lo teniamo, insomma. Beh, certo. Alessio, tu sei stato anticipato da un servizio dove abbiamo fatto il punto su quelli che sono gli sviluppi e l'impatto dell'emergenza coronavirus sul vostro settore. Abbiamo visto che, naturalmente, la maggior parte delle fiere, che sono un momento cruciale dell'arte del fumetto, sono state annullate. e probabilmente non si sa che cosa sarà per quelle che verranno in autunno. Ma soprattutto la cosa che, insomma, mi ha colpito di più è che queste 23 manifestazioni di cui abbiamo parlato nel servizio hanno unito le loro forze per far riconoscere il livello culturale dei fumetti. Perché magari è una filiera un po' invisibile. Cioè non è considerato un'arte a tutti gli effetti. Tu pensi che bisognerebbe invece andare verso questa direzione, questo sdoganamento dell'arte del fumetto? O è ancora limitato a una determinata cerchia, a un target, un pubblico? Allora, questa è una faccenda complicata, dove c'è un enorme dibattito interno. Cioè noi fumettisti ci scanniamo proprio questa questione, perché ci sono dei punti di vista di chi sostiene che il fumetto non ha bisogno di una vera legittimazione culturale, ma si basa sulla forza dei contenuti che gli autori hanno da proporre. Cioè chi invece effettivamente non del tutto ha torto lamenta il fatto che, dato che negli anni 70 il fumetto veniva un po' considerato al pari del mezzo televisivo un strumento di comunicazione di infimo livello rispetto alla letteratura, è rimasto un po' questo pregiudizio attaccato soprattutto sullo fumetto seriale, se del fatto che non è... è stato considerato a lungo, insomma, così, intrattenimento sorvolabile, su cui si può sorvolare, insomma. Alessio, ma tu ti senti legato a qualche autore del passato? Beh sì, ce ne sono tantissimi, però ecco, su quel punto, sulla domanda precedente finisco proprio al buonissimo. Diciamo che io sono un pochino per la prima scuola, nel senso che anche secondo me è inutile rincorrere artificiosamente una legittimazione culturale ed è importante conquistarsela sul campo. Certo è però, Alessio, che siete stati esclusi dai fondi che sono riservati alla cultura e questo... Sì, è vero, è vero, questo è vero ed è un peccato e ce ne rammarichiamo tutti, però è anche vero che se noi guardiamo le librerie di Varia negli ultimi anni, ci sono praticamente due settori che si sono espansi, che hanno proprio preso spazio e scappano nelle librerie e sono i fumetti e i libri di cucina sostanzialmente. Quindi voi, tu dici, noi ci accontentiamo di essere legittimati sul campo. No, 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 non è che ci acconsentiamo, però ogni tanto fatichiamo a riconoscerci dei meriti e invece, secondo me, a ben vedere questi meriti ci sono, perché in effetti il fumetto, come dicevate anche voi, grazie anche a autori fortissimi come Zero Calcare, Gipi oppure Maccox su propaganda, insomma, sta diventando... I fumettisti stanno diventando importanti. Alessio, parliamo di progetti e di sogni futuri. Sì. Sì, allora, io per adesso sono ancora in scuderia Bonelli e credo che ci rimarrò finché, insomma, la Bonelli mi accetterà di buon grado. Dopodiché io sono, appunto, come vi dicevo, ero partito da autore umoristico e sto, appunto, preparando una pubblicazione in futuro di cui, però, ancora non si può dire nulla, non posso dirvi nulla. E noi ti rinviteremo, allora, così, una volta che... Una volta che il tuo progetto arriverà a termine, a noi farà piacere rinvitarti. Esatto, sì. È che è molto diverso da quello che faccio attualmente. La varietà è bellezza e ricchezza, Alessio, secondo me. Spero che possa condividere anche tu. Anche secondo me. Benissimo, noi ti ringraziamo tanto per essere stato nostro ospite, per averci fatto scoprire questo mondo che a me affascina tanto, l'ho detto. E se dovessero riprendere le fiere, tra cui quella di Lucca, che è la più famosa, sicuramente ci andrò. E spero di incontrarti in quel caso, Alessio. Grazie, Alessio. È stato un piacere. In bocca al lupo per la tua carriera. E per me. Grazie, grazie. Ciao, grazie. Bene, Orore, adesso è arrivato il momento di una breve pausa. Pubblicità. Gentili telespettatori, ben ritrovati alla seconda parte di Un Tè con Tè. Ma adesso è arrivato il momento di girare il mondo. Aurora, dove ci porti? Non ve lo dico, ve lo dico subito dopo questo servizio. I casi di contagiati da coronavirus nel mondo sono oltre 8,3 milioni e deceduti sono oltre 449 mila. La Germania sta continuando a lottare con le unghie e con i denti contro il Covid-19. Neanche la locomotiva d'Europa, infatti, è stata esentata dalla pandemia che ha messo con le spalle al muro l'intero pianeta e ha portato numerosi osservatori e istituzioni globali a teorizzare drammatiche recessioni per l'anno corrente. Un contesto decisamente impegnativo anche per la Germania, che tuttavia ha messo in piedi il più ampio programma di stimolo della sua storia recente con l'obiettivo di frenare il tracollo post-Covid. Il gabinetto di Angela Merkel ha firmato ieri un nuovo piano per emettere altri 62,5 miliardi di euro di debito. L'obiettivo, sempre lo stesso, finanziare il recupero economico del paese travolto dall'emergenza. Intanto un nuovo focolaio si sta registrando nelle ultime ore e coinvolge l'impresa della carne Tonnies. Secondo quanto riferito da funzionari regionali tedeschi, sono oltre 650 casi di positività legati alla ditta. Nell'impianto, uno dei più grandi d'Europa, lavorano oltre 6.000 dipendenti. A riguardo si è scomodata anche Angela Merkel per cercare di rassicurare la popolazione, ma al tempo stesso per metterla in guardia. La cancelliera ha lodato le autorità territoriali per la velocità con cui hanno effettuato i test e isolato il focolaio, divampato sulla pelle dei dipendenti dello stabilimento. Intanto i grandi eventi resteranno proibiti in Germania, almeno fino alla fine di ottobre. È stata presentata ufficialmente martedì a Berlino anche l'app per il tracciamento del coronavirus. La Merkel ha assicurato di riuscire ad evitare una seconda ondata. Teniamo sotto osservazione il processo di infezione e l'andamento del virus. Ci prepariamo a reagire per evitare che ci sia un nuovo evento incontrollato. E noi rimaniamo proprio in Germania per presentare la nostra ospite. In Germania è esattamente a Norimberga e lei è Elisabetta Lucia Galbusera. Buon pomeriggio Elisabetta, benvenuta! Ciao a tutti voi, grazie di avermi invitata in trasmissione. Ciao Elisabetta, benvenuta! Ciao! Allora Elisabetta, com'è la situazione in Germania? Raccontaci un po' per via di questa emergenza Covid-19. Allora, io ho ascoltato attentamente il servizio. Dalla nostra esperienza, perché a fine febbraio non si sapeva ancora nulla e anche io dovevo partire per la Grecia. Ho chiamato varie volte l'ambasciata sia greca che tedesca e non sapevano cosa stesse succedendo. E hanno detto, forse è meglio non partire. Infatti noi abbiamo deciso di non partire e da lì poi dopo hanno iniziato piano piano la prevenzione. Hanno iniziato delle varie costruzioni del tipo mettete la mascherina solo però all'interno dei locali. Tanti ristoranti hanno iniziato a fare il takeaway, cioè l'asporto. Diciamo che è stato peculiare, è stato l'economia, cioè uno sguardo all'economia. Quindi molte persone sono finite in Kurzarbeit, che significa, credo che sia la nostra cassa integrazione, però hanno subito fatto delle leggi per fare in modo di fermare i licenziamenti, di venire incontro alle imprese, venire incontro ai ristoranti, tipo un amico che ha un pub in centro a Norimberga e lui ha subito avuto, credo dopo due settimane, 5.000 euro per pagare l'affitto e determinate spese. Ma tu da quanti anni vivi in Germania? Di cosa ti occupi? In realtà noi sappiamo che tu sei una giramondo, insomma. Non sei, non hai vissuto solo in Germania, è vero? No, ho vissuto, certo giusto. Ho vissuto in vari paesi perché adoro viaggiare, conoscere culture diverse e arricchirmi ogni volta, con nuove lingue, nuove persone, nuovi incontri, e ho vissuto in Irlanda, in Spagna, in Francia, in Portogallo, in Germania, e poi ho preso un anno sabbatico quando avevo 27 anni e ho girato il mondo, il classico travel backpacker, praticamente ho girato il mondo per nove mesi. Da sola o in compagnia? Allora, diciamo che ho trovato l'amore della mia vita con i viaggi. Anche lui è un viaggiatore, quindi, come te. Sì, conosciuto a 26 anni in Italia, proprio vicino al mio paese. Ero tornata per venire a trovare i miei genitori. Ho viaggiato un po' ovunque. Diciamo che prima amavo viaggiare in solitaria. Poi ho conosciuto, e comunque, mentre viaggiavo, conoscevo persone. Com'è viaggiare in solitaria per una donna? Ti sei mai sentita in pericolo in certe occasioni, o per te è stato sempre tutto liscio come l'olio? Dipende dai paesi. L'unica volta che mi è successa una cosa abbastanza fastidiosa è stato a Sevilla. Avevo 22 anni, ho visto quando vivevo in Spagna. E praticamente mi hanno chiesto il portafoglio, era mezzanotte, vicino all'hotel dove stavo. Ero appena arrivata in Spagna, mi hanno chiesto il portafoglio e tutta la borsa. E io ho contrattato, vi prego, almeno lasciatemi la borsa che ho tutti i documenti. E mi hanno rubato soltanto i soldi. Diciamo che nella vita, visto che sin da quando ero piccolina ho viaggiato con i miei genitori, ho imparato una certa arte di sopravvivenza. In certe modo mantenere, non andare in panico, mantenere la calma. Elisabetta, ma qual è stato il viaggio più significativo della tua vita? Il viaggio più significativo è stato quando sono stata in Australia. Perché ti ha segnato questo viaggio? Perché, prima di tutto, mi ha segnato perché io ho pianto quando sono tornata dall'Australia. Era il 2007. Era il 2007 e tutta questa cosa dei parchi, della vita all'aria aperta, il fatto comunque che le persone, non voglio generalizzare, però le persone che vivono in Australia sono molto curiose, molto aperte, molto cordiale, molto friendly. e ho scoperto un lato di me stessa che non conoscevo quando sono rientrata in Europa perché mi sono detta io amo tutto quello che è esteso, tutto quello che mi può dare la possibilità di essere in contatto con la natura e a contatto con parti di me stessa. E l'Australia è fantastica, gli animali... Quindi possiamo dire che ormai ti sei stanziata in Germania o hai ancora la valigia in mano? Viaggerai per tutta la vita. No, allora, diciamo che mi ha fermato questa situazione, il coronavirus. Quindi solo il coronavirus ti ha potuto fermare. E infatti anche lì ho trovato un altro lato di me stessa, ho dovuto fermarmi. però questa volta è in costrizione come tutti, infatti non voglio... Però Elisabetta, noi sappiamo che tu in un certo senso hai sfruttato questo tuo essere giramondo... Noi non ci crediamo che ti sei fermata, hai comunque inventato qualcosa. Infatti, ti sei fermata fisicamente, però hai sfruttato questo tuo essere giramondo per diventare una career coach. Giusto? In che senso? Ce lo spieghi bene? Noi questi termini in inglese... Soprattutto opina. Ho portato un post dicendo che essendo che i miei progetti si erano fermati, ho iniziato prima aiutare delle ragazze in lingua inglese e in lingua tedesca che volevano stabilirsi nel paese. Poi mi sono detta ma io vorrei dare un raggiunto sfruttando la mia laurea in sociologia e le mie esperienze, l'esperienza ventennale sia di lavoro che di viaggi. e ho conosciuto una ragazza che era ingegnere gestionale e abbiamo valutato insieme un suo percorso. Abbiamo fatto sia il curriculum... È nato tutto da un curriculum, da lì la lettera di motivazione con parole chiave perché è molto importante conoscere l'azienda per la quale si applica e utilizzare le parole chiave nella lettera di cover letter, nella lettera di motivazione e conoscere l'azienda. Cioè, quindi tu in un certo senso aiuti le persone sia dal punto di vista... sia a entrare nel mondo del lavoro sia che a stabilirsi proprio fisicamente come vita in una nazione nuova, quella che adesso è la Germania. Infatti, Elisabetta, dacci alcuni consigli utili... Eh, se volessimo venire a vivere in Germania. Se volessimo trasferirci in Germania. Prima di tutto, ecco, bisogna fare una valutazione della professione, tipo di professione, zona, anche dalla quale è richiesta, questa professione. Perché si dice che in Germania c'è lavoro, ma non c'è lavoro per tutti, perché è un lavoro specializzato in alcuni campi. Oppure si può decidere un percorso di formazione da attuare dopo un apprendimento della lingua tedesca a livello B1, B2 per poter intraprendere in Germania. Per esempio, fino a poco tempo fa gli ingegneri erano molto richiesti. Tra qualche tempo io ho collaborato con un'azienda per un altro tipo di lavoro e ho scoperto che l'ingegnere nell'automazione non sarà più un lavoro richiesto in futuro. Perché ormai... È saturo il mercato. È saturo, è saturo e purtroppo c'è la competizione ormai internazionale. Ormai inviare un curriculum non serve più. Io ho ottenuto l'anno scorso un progetto lavorativo come explore manager per una azienda inglese. Abbiamo un piccolo problema con il collegamento chiediamo intanto alla regia di ripristinarlo. Noi vorremmo sottoporvi nel frattempo alcune curiosità sulla Germania. Vai Pina. Allora, intanto possiamo dire che quello della Germania è un popolo di grandi inventori. Hanno inventato la stampa, la birra, la bicicletta, l'automobile, l'insulina, l'aspirina, le lenti a contatto e la scuola materna. Insomma, sicuramente qualche invenzione rivoluzionaria forse ci sta sfuggendo ma queste importanti creazioni sono proprio made in Germania. Proprio a proposito della birra, in Germania ci sono 1300 birrifici a proposito della birra per circa 5000 tipi di birra e invece ci sono circa 300 varietà di pane. Anche questo è un aspetto interessante. Legia, intanto noi ci siamo ricollegati con Elisabetta? Eccoci Elisabetta. Stavamo sottoponendo ai nostri telespettatori qualche curiosità sulla Germania e tu invece ci stavi dicendo cioè se uno si vuole trasferire in questo caso in Germania non bisogna in un certo senso andare all'avventura. Bisogna capire il paese dove si sta andando, che cosa si cerca e almeno formarsi in questo per quello. Sì, ci vuole una preparazione non soltanto dal punto di vista linguistico ma anche capire anche come dicevo cos'è richiesto nel paese perché onde evitare di trovarsi in determinate situazioni. Il know-how è importante il fatto di avere un certo una professione che è non soltanto richiesta ma comunque che sarà richiesta quindi fare anche un business plan per capire cosa aspetta quale sarà la professione più ricercata nel futuro ho sentito che parlavate di eccellenza tedesca però sfruttano il know-how italiano il know-how europeo perché ci sono tipo mio marito lavora in una multinazionale come lui tantissime altre persone del tutto il mondo diciamo che sanno come fare fruttare i talenti come sfruttare non voglio dire sfruttare però sanno il potenziale come farli emergere diciamo sì diciamo che un pochettino non voglio dire che loro hanno tantissima professionalità e tantissima efficienza però accadono nell'errore io ho avuto da più che fare con molti professionisti e vedevo che ogni tanto qualche errore c'era perché noi abbiamo una visione diciamo olistica abbiamo una conoscenza molto più generale poi dipendiamo al particolare mentre loro vanno subito si specializzano subito sono un po' come in Inghilterra hanno una specializzazione ma poi non riescono a spaziare sì questo è vero è una cosa che si riscontra tanto ma forse anche per il nostro sistema scolastico perché quando più che il sistema scolastico è il sistema universitario perché è vero che in Italia c'è la laurea specialistica però resta sempre tutto comunque un po' generale per quanto riguarda la formazione in Italia bisogna sempre poi fare un'esperienza lavorativa per specializzarsi a tutti gli effetti cosa che invece ci sta dicendo non è così in Germania giusto? c'è una collaborazione tra le università le scuole superiori con le aziende quindi ci sono percorsi di formazione che hanno il tirocino in azienda ma il tirocino è pagato il tirocino ha un programma che deve essere seguito e la persona quando finisce il tirocino ha in mano la professione il tirocino può durare anche un anno e mezzo tre anni bene Elisabetta prima di salutarci perché ahimè il tempo a nostra disposizione sta per terminare noi ti vorremmo sottoporre una delle curiosità che stavamo vedendo prima con Pina una che ci intriga abbastanza si vorremmo chiederti stavamo leggendo per l'appunto se è vero che in Germania è illegale rimanere a corto di benzina in autostrada chiaramente ma si è sempre riconducibile alla efficienza però guidare però guidare nudi è legale cioè stavamo però è illegale scendere dalla macchina è vero un po' beh certo queste leggi sono sicuramente molto curiose grazie Elisabetta grazie Elisabetta grazie per essere stata con noi in bocca al lupo per tutto e grazie per averci parlato della Germania ed averci fatto fare anche un giro del mondo ti auguriamo di poter ripartire e di poter riprendere in mano la tua valigia al più presto grazie mille a presto ciao ciao Elisabetta grazie bene e adesso Rassegna Stanca eccoci eccoci quando stava di nuovo litigando col tablet quando ho l'iPad in mano Aurora arriva sempre in soccorso per fortuna bene ho trovato la prima la prima news pensate case in vendita a un euro in Calabria l'affare per le vacanze nel paesino covid free sì questa è la proposta di un paesino calabrese cinque fronti pensate io ci sono anche stata sulla Spromonte nel tentativo di contrastare lo spopolamento dei paesi il paese come altri borghi d'Italia sta vivendo una fase difficile appunto per le persone che vanno via ci sono sempre meno abitanti anche la CNN ha dedicato un articolo a questa iniziativa di cinque frondi che tra i vari vanti c'è anche quello di essere covid free tra l'altro tutta la Calabria è stata una delle regioni con il livello più basso di contagi il sindaco ha definito l'iniziativa operazione bellezza come si fa chi comprerà una casa al prezzo simbolico di un euro deve però stipulare una polizza assicurativa di 250 euro annuali al fine di garantire una ristrutturazione che se non avverrà entro tre anni è prevista una multa di 20 mila euro le case a disposizione sono tutte tra i 40 e i 50 metri quadri quindi il tempo per ristrutturare dovrebbe essere idoneo e parliamo adesso invece di stile perché da una nota catena di abbigliamento internazionale è nata l'idea di un paio di stivali griffati cui dettagli richiamano chiaramente le simpatiche creature dei pokemon il giappone va spesso a braccetto con oggetti e curiosità che si ispirano al mondo dei cartoni animati non ne parliamo quando si parla di pokemon a tal proposito la filiare del giapponese della nota catena di abbigliamento zara ha lanciato questo paio di stivali in edizione limitata i cui tacchi non sono altro che delle pokeball la scarpa in sé poi non ha nulla di particolare è formata da un semplice guanto in tessuto scratch nero ma perfettamente in linea con i pokemon per quello che riguarda il tacco e pensate costano solo 28 dollari statunitensi li comprerai pina? no io non ho mai amato i pokemon non avevo dubbi guarda bene e cambiamo decisamente argomento perché parliamo di un frutto che sa di carne ma chiaramente i gentili telespettatori si chiederanno in che senso e ce lo spiegherà Aurora allora parliamo del jackfruit che pesa mediamente pensate ben 35 chili e non ha solo il primato di essere appunto il frutto più pesante che cresce sugli alberi ma è anche veramente estremamente versatile in cucina soprattutto per chi segue un regime alimentare vegano è un frutto di origine asiatica grandissimo alcuni esemplari arrivano addirittura a pesare 50 chili ha una buccia spugnosa e bulbi interni di un caldo color giallo è noto fin dall'antichità ed è stato impiegato anche in medicina in medicina indiana come antibatterico e anti-infiammatorio è anche un ottimo sapore saziante sulla tavola è super versatile perché dipende da come verrà cucinato la giacca matura e deliziosa ha un sapore dolce mentre se viene cotta assume un particolare un sapore particolare che ricorda appunto quello della porchetta al punto che negli Stati Uniti vengono servite cotolette o hamburger di jackfruit tacos o bistecca di jackfruit ultimo ma non meno importante questo frutto è anche un alleato di bellezza è capace di contrastare l'invecchiamento e la formazione di rughe e attenuare invece quelle che già abbiamo sì in chiusura parliamo di una nuova candela dall'aroma esplosivo ed è quella lanciata da Gwyneth Paltrow la famosa attrice di Hollywood Gwyneth Paltrow ha voluto appunto dare questo ultimo prodotto lanciarlo sul web una nuova candela in vendita al costo di 75 dollari il cui profumo viene definito come esplosivo è un profumo realizzato con succo di pesca e bacche di ribes nero ma la cosa simpatica è che l'attrice quando ha presentato per la prima volta questa candela durante il collegamento con il Tonight Show l'ha definito all'odore del mio orgasmo per questo appunto il profumo sarebbe davvero esplosivo pensate che nella scatola ci saranno anche dei fuochi d'artificio e adesso prima di chiudere vogliamo ricordare gentili telespettatori che qualora volessero raccontarci la loro storia dovranno farlo all'indirizzo e-mail teconte.tvcusano chiocciola gmail punto com ma oggi c'è una sorpresa c'è una novità perché questa volta noi non abbiamo scelto la poesia dal web per chiudere il nostro programma ma abbiamo proprio trovato un poeta un poeta dei giorni nostri un poeta 2.0 sì oggi inauguriamo infatti la rubrica la nostra rubrica dedicata alla poesia è a cura di Flavio Ferraro che ogni giorno ci proporrà un pezzo o suo o comunque dei grandi classici ciao Flavio benvenuto ciao che hai per noi ciao Flavio vai adesso è il tuo spazio allora io comincio avendo pubblicato quattro raccolte di poesia oggi se mi permettete un attimo di narcisismo comincerei con alcuni miei testi prego questa è la casa del narcisismo Flavio ok solo per oggi poi da domani daremo spazio ad altri poeti allora io vi leggo da una raccolta che ho pubblicato nel 2013 la direzione del tramonto edizioni edipus allora sponda del lago quanto per me indubitabile entro una macchia di faggi che si oscura se la guardi senza sintassi come fiori di novembre ti lascio questa fede paziente questa pietra amorosa nell'accogliere il fondo come si amare cercare al di là oltre il volto che affiora nell'incresparsi di uno spazio ventoso ti lascio parole a cui non credo bella Flavio un'altra vogliamo un'altra mi sentite bene? si 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 vai ci abbiamo sentito siamo proprio incantate si bene leggo un'altra profusione dei mondi primordi che la lingua non declama è questo il profondo il signore del disamare ma vivere accanto alle vestigia fermarsi a un passo dall'arco più storiato quasi un tarlo negli annali delle piogge non è quiete è la stanchezza dei mari quando vanno contro vento bellissima anche quella soprattutto questa l'ultima parte ce n'hai un'altra un po' più breve magari per salutarci Flavio? ve ne leggo una dalla mia ultima raccolta La luce immutabile una raccolta uscita nel 2019 edizioni La Camera Verde i fiumi conoscono la loro meta dal mare hanno origine e al mare fanno ritorno e guarda questi frutti alti tra i rami il seme sepolto è uguale a loro tornare alla propria radice e questa la quiete per questo devi perdere per trovare colui che cerchi così l'amante scompare nell'amato finché solo l'amore resta grazie Flavio che bello concludere la nostra puntata così solo l'amore resta e noi ti ringraziamo e ti aspettiamo domani grazie a voi ragazzi a tutti i telespettatori buon pomeriggio ciao Flavio a domani ciao bene e con questo si conclude questa nostra puntata del tema come abbiamo detto adesso con Flavio noi ci vediamo domani buon pomeriggio a domani ciao Grazie a tutti